Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org Chiara Ferragni, è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. È amministratrice delegata e fondatrice di TBS Crius RL e Chiara Ferragni Brand non che, dal 2021, è membro del Consiglio di Amministrazione Gruppo TOTS. Ogni giorno Chiara e Federico condividono sui social scatti e momenti quotidiani in generale che riguardano i loro bambini. In questo periodo stiamo vedendo i piccoli alle prese con l'arrivo di Halloween, ma anche con i loro momenti a scuola che di certo non sono di poco conto. In modo particolare per Vittoria, che solo quest'anno ha cominciato l'asilo e i primi risultati si stanno già vedendo, dal momento in cui nelle ultime settimane parla davvero piuttosto bene rispetto a qualche mese fa. Leone, intanto, continua a proseguire i suoi studi nella scuola privata che frequenta oramai da quando aveva solo 3 anni. E, proprio in questi giorni, Chiara ha pubblicato sui social uno scatto di un disegno, ovvero un lavoretto che ha fatto Leone a scuola. Si tratta di un vero e proprio albero genealogico, dove sono ritratti tutte le persone che fanno parte della loro famiglia. Non solo Chiara e Federico, ma anche nonni, zii e cugini. My Family Tree ha scritto Leone in fondo al disegno, dove vediamo tutti i volti dei membri della sua famiglia. Un lavoro davvero molto emozionante, e che ha permesso al piccolo Leone di capire molto meglio le sue origini.